Fanno sempre più sostenibile. È partita ieri la nuova iniziativa promossa dall'amministrazione comunale che ha messo a disposizione della città una dotazione di 150 monopatteni elettrici. I veicoli a due ruote, già presenti in numerose città, sono stati posizionati in alcuni punti strategici, come alla stazione ferroviaria, in quella degli autobus, sul lungomare, intorno al centro storico e nei parcheggi principali, nei pressi del cuore cittadino. Questo per favorire non solo i turisti che sono a Fanno, che magari sono a piedi e vogliono spostarsi più velocemente acquistando il servizio di Bird, ma anche per i fanesi, quindi favoriamo l'intermodalità. Qualcuno che arriva con la macchina, non ha voglia di entrare dentro la zona mare perché c'è traffico, può parcheggiare un pochino più all'esterno e poi spostarsi con il monopattino. Per poterlo utilizzare è necessario scaricare l'app di Bird sul telefonino e creare un account. Una volta aperta l'applicazione ci si può indirizzare verso il monopattino più vicino e scansionare il codice QR per iniziare il viaggio. Il costo dello sblocco del monopattino è di 50 centesimi più 29 centesimi al minuto. Trattandosi dello stesso gestore della città di Pesaro, i servizi saranno comunicanti. È un servizio molto comodo perché abbiamo ampliato appunto il territorio in cui è presente il monopattino. Partendo da Pesaro si può arrivare a Fano o viceversa, partendo da Fano si può arrivare a Pesaro e si può lasciare il monopattino ovunque si voglia. Si chiama infatti free floating, quindi tu puoi arrivare ovunque e parcheggiarlo, ovviamente senza creare intralcio alla viabilità pedonale, soprattutto non lasciamolo sui marciapiedi o nelle zone parcheggio auto, ma in delle zone dove è possibile che non dia problemi. Nel centro storico però non si blocca? Nel centro storico a Fano abbiamo messo un blocco, infatti se scaricate l'app vedete delle zone rosse e in queste zone non è possibile parcheggiare, quindi se entrate nella zona potete transitare ma non è possibile lasciare il monopattino in modo da non sovraffollare le zone centrali. Quindi fondamentalmente non si sblocca l'app e quindi continuerete a pagare, quindi per questo è meglio lasciarlo magari un po' più fuori dal limite del centro storico così non si creano problemi. A gestire il recupero e il bilanciamento di monopattini sarà Urbico, la start-up con sede a Pesaro. Ecco, se non sono mancate delle polemiche, tra queste anche quella relativa all'attivazione e ritardo del servizio visto che siamo quasi alla fine dell'estate, che cosa risponde? Meglio tardi che mai, diciamo, c'è stata la possibilità di farla adesso. È uscita una manifestazione di interesse qualche settimana fa per appunto avere questo servizio in modalità stabile perché questa che abbiamo oggi è una sperimentazione che abbiamo fatto appunto con la stessa azienda di Pesaro però in realtà è uscito fuori un bando per cui tutte le società possono partecipare. Questa è una sperimentazione anche un po' per tarare la conoscenza che noi come amministrazione abbiamo sul nostro territorio di questo servizio quindi capire dove posizionare, capire anche i limiti di velocità, quale mettere, dove abbassare. Per esempio una cosa che non ho detto è all'interno del centro storico e nei lungomari abbiamo ridotto la velocità da 20 km orari, che è il massimo della potenza, a 6 km orari appunto per aumentare un po' la sicurezza e questo anche dentro la ZTL del centro storico. Quindi è tutto, diciamo, un po' per capire come funziona nella nostra città e quindi poi nella manifestazione di interesse futura con il futuro vincitore potremmo avere delle idee più chiare e quindi attivare un servizio sempre migliore. E invece qual è il costo sostenuto dal comune? Il costo del comune è assolutamente zero, quindi anche questa è la novità di questo servizio. Anche nella futura manifestazione di interesse del bando abbiamo messo costi zero per il comune perché vediamo che anche in altre città funziona, quindi abbiamo voluto proprio avere questo servizio gratuito per il comune.